Smaltita la delusione, il città di Gallipoli è pronto a far risuonare Decibel dello Stadio Bianco in vista dell'avvio dei playoff nazionali di eccellenza, tappa propedeutica al raggiungimento della Serie D dalla porta di servizio. Per i giallorossi di carrozza, dopo la sfortunata lotteria dei calci di rigore che ha sorriso al Manfredonia, l'opportunità di raggiungere i sipontini interregionale, ma bisognerà superare due squadre nell'arco di 360 minuti. La prima è il Matera Città dei Sassi che un po' sorpresa ha vinto i playoff regionali dell'eccellenza lucana proiettandosi alla fase nazionale. Una formazione giovane e ben collaudata quella dei lucani, ma che al suo interno vanta la presenza di calciatori transitati in Puglia su tutti i tragni, pentimone e soprattutto picci. Gallipoli però non da meno in termini di qualità, gente come Fruci, Benvenga, Sansò e Quarta, è abituata a fare la differenza in partite così delicate. Quella di domenica prendere il via alle ore 16.30, tra una settimana invece sfida di ritorno in terra lucana. La vincente del doppio confronto affronterà una tra Isernia e Agropoli in finale.